ciao a tutti colors benvenuti in questo nuovo video allora vi vorrei annunciare un po di cose prima di tutto questo sarà l'ultimo video dove vi farò vedere la lista amazon anche perché credo che poi i regali che farete eventualmente da oggi che per voi il lunedì arriveranno a gennaio quindi contattatemi se devo tardare il video dei regali di lanciare perché mi avete preso qualcosa che arriverà a gennaio perché altrimenti appena mi arriva il mio autoregalo è quello del mio migliore amico faccio il video se non so che nessun altro ha pensato di mandarmi qualcosina pur tuttavia il video non era solo per questo invece di fare altri video per dicembre quante cavolo di volte sto dicendo video ha avuto un'idea secondo me geniale il 28 dicembre io compio meglio il canale compie sei anni di youtube questa volta cosa potrete fare per festeggiare con voi nessun regalo bastano quelli natale grazie gentilissimi se lo fate organizzerò in realtà due live perché io vorrei passare anche la vigilia con voi quindi ho deciso di fare due live il 24 dicembre alle ore più o meno 21 21 30 se riesco inizio già dalle nove altrimenti alle nove e mezza e l'altra il 28 dicembre sempre alle nove nove e mezza soprattutto nella prima mi piacerebbe arrivare almeno mezzanotte per farci gli auguri di buon natale mentre il 28 è relativo insomma vediamo un po come vanno le chiacchiere il 28 festeggiamo insieme sei anni di youtube con la terza live del canale se ci fossero impedimenti da parte mia farò altri video per avvisarvi che ne so tipo purtroppo la live del 28 non si può fare la facciamo il 29 ad esempio quindi per la filosofia niente nuove buone nuove e se non vedete altri video dopo questo vuol dire che tutto confermato 24 dicembre live di natale e 28 dicembre live per i sei anni di youtube vi ricordo anche che un secondo canale true colors music che trovate sempre nel link in descrizione e niente fatevi sapere qui sotto più o meno se pensate di esserci qualcuno di voi non è necessario che rimaniate fino alla fine anche un saluto va bene e la live la facciamo con stream yard che è un programma che se volete fa entrare un massimo di sei persone in video chat con me quindi eventualmente la sera stessa non c'è bisogno che ve lo diciate prima posso ospitare fino a sei persone in live con me sia con la webcam ma anche solo con il microfono addirittura se non potete parlare solo la webcam posso disattivarvi il microfono con stream yard non dovete registrarvi non dovete pagare quindi adesso concludo veramente il video prima di perdermi in altri giri di parole ci vediamo il 24 e il 28 fatemi sapere qui sotto ciao vi voglio bene ciao 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 ciao